Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Buonasera a tutti. Quello che mi è successo oggi ha dell'incredibile, però fa parte di tutta quella serie di storie, di leggende, di accadimenti di buonaventura che accadono a quelli che si mettono sulla strada, a quelli che si mettono in viaggio. Forse grazie anche al mio personalissimo dio del viaggio, ma in fondo se non ti metti sulla strada, se non osi fare qualcosa, le cose non ti accadono mai. Mi trovavo sul pullman che mi stava portando verso il nord dell'isola per poi imbarcarmi per Gozo. Ero, come sempre, rassegnato all'eventualità di trovare un ricovero di fortuna col mio fedelissimo sacco a pelo. A un certo punto ho un'intuizione. Dico, vabbè, provo a cercare qualcosa su internet. Nella peggiore delle ipotesi vedrò come arrangiarmi. E il fato ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Ho trovato a Meliea questa stanza Chiamiamola stanza In realtà è un appartamento Questo è il bagno Camera da letto Quello sono sempre io Con Un Panorama niente male Con Anessa a piscina, naturalmente E ho trovato questa stanza Uno dirà Quanto avrei pagato? Questa è una nota d'Oleans perché molta gente Pensa che io sia molto ricco In realtà non sono ricco Spendo magari quel poco che metto da parte per fare i miei viaggi Però sicuramente l'aspetto economico e il fatto di viaggiare da ricchi non è la mia priorità Anche perché non posso, insomma, fino a quando non troverò qualche sponsor importante Quanto ho pagato la stanza, l'appartamento? Avete tre secondi per rispondere Rispondo io Sì, 15 euro e 84 Se uno non cerca, non trova E' stato un caso, sarà stato il fatto di aver prenotato Che ne so, mezz'ora prima, all'ultimo momento Sarà che forse è bassa stagione Io voglio credere che sia stato il dio del fato Stasera A permettere che io mi possa riposare un po' le ossa Dalla strada percorsa oggi Vostok 100k Dritta, avanti tutta, sempre Anzi, quasi quasi Adesso faccio un salto in piscina